Oggi parliamo della teoria del triage di Bruce Ames. Meetup Academy per professionisti della salute. Le informazioni importanti per districarsi nel mondo degli integratori. Imparate a decifrare etichette complesse e normative incerte, usando informazioni scientifiche per migliorare la salute dei pazienti e ottimizzare il vostro tempo. Bruce Ames è un biochimico molto famoso, un americano, ormai arrivato quasi alla soglia dei 100 anni di età, e come dicevo, molti di voi probabilmente lo conoscono già perché si è occupato dei test per vedere se una sostanza è cancerogena e ha sviluppato questi metodi che sono universalmente accettati appunto per testare sostanze cancerogene, mutagene, se hanno degli effetti negativi, quindi ha contribuito al fatto che alcune sostanze vengano proibite come introduzione nei cibi o negli anticriptogamici e cose di questo genere. Ma lui è il fautore di un'altra teoria, la teoria del triage, che risponde un po' alla domanda che molti di voi giustamente hanno sugli integratori, sulla necessità di integrare. Mentre chi fa medicina anti-aging ha la chiara evidenza che integrare vitamine, minerali e aminoacidi, e perché no antiossidanti e cose di questo genere, è una cosa assolutamente raccomandata per quegli scopi e quegli utilizzi, alcuni professionalisti della salute non hanno ben chiaro il perché dovrebbero dare integrazione, soprattutto integrazione multivitaminica, a tutte le persone che sono loro pazienti, in modo da garantire che le loro terapie, le terapie che gli vengono somministrate, facciano presa, perché in assenza di micronutrienti possono esserci rallentamenti rallentamenti alla guarigione, rallentamenti fisiologici al miglioramento del corpo. Bruce Ames ha formulato questa teoria molto interessante che afferma quanto segue. Il corpo al suo interno esegue quello che nell'ospedale, nel pronto soccorso, si chiama triage. Al pronto soccorso, nell'ospedale, insomma, i dottori devono fare una selezione dei pazienti in modo da attribuire loro una priorità. Avrete visto nel pronto soccorso degli ospedali italiani ci sono il codice giallo, il codice bianco, il codice rosso e così via. Sono indici di priorità che vanno dati ad alcuni pazienti. In casi estremi, come in casi di disastri dove tantissime persone arrivano in ospedale e non ci sono le risorse per curare tutti, gli operatori sanitari sono addirittura costretti a eseguire il triage nel senso di decidere di non occuparsi di alcuni pazienti troppo gravi perché è impossibile salvarli. Cose di questo genere. Qual è la teoria di Ames? Stiamo parlando di una teoria piuttosto ben comprovata e quindi non stiamo parlando di pseudoscienza o di opinioni di Ames, ma di una teoria molto ben comprovata che ha forza della prova importante. E lui dice, quando all'interno del corpo c'è una carenza nutrizionale di qualche tipo, il corpo opera una scelta. si dedica in primo luogo a dei processi vitali che considera urgenti, considera prioritari. Quindi nel breve termine salva la situazione a discapito dei risultati che questa scelta può avere nel lungo termine. Questo ovviamente suggerisce implicitamente che una carenza di vitamine o minerali o cose di questo genere possa comportare danni a lungo termine che poi è quello che abbiamo visto anche grazie ai lavori dell'OMS sulla nutrizione umana che in effetti mostrano come le malattie croniche, guarda caso quelle di lungo termine, sono quelle maggiormente influenzate dalle carenze nutrizionali, quelle che più sono causate da carenze nutrizionali. Ho qui una lista presa dai lavori di Ames che dà l'elenco delle precedenze osservate all'interno del corpo. Il corpo opera il triage dando favore, dando precedenza alla produzione di energia. Quindi produrre ATP tramite la glicolisi, il ciclo di Krebs, eccetera, è una cosa prioritizzata. È la prima cosa da fare perché se manca quella tutto il resto dell'organismo, tutto il resto del metabolismo può collassare. Verrebbe a mancare la funzione cardiaca o la funzione cerebrale tanto per dire se questi processi non fossero operativi. La seconda cosa a cui viene data la precedenza è la risposta allo stress acuto, cioè attiva delle vie metaboliche per gestire lo stress immediato. Adrenalina, cortisolo, reazione, combatti o fuggi, fly or fight dicono in inglese, sono quelle cose che rendono necessaria alla sopravvivenza un'azione immediata. Quando l'orso ti insegue, classico esempio che si fa in biologia, non si bada ad altre funzioni secondarie tipo il sistema immunitario perché quella è una cosa di più lungo termine. Tra le funzioni che vengono favorite sono anche quelle della funzione di riproduzione, cioè anche in condizioni di carenza nutrizionale può dare sostentamento alle funzioni riproduttive. Questo potrebbe dare qualche dubbio a qualcuno. Come mai il corpo favorisce il fatto di potersi accoppiare e riprodurre? Cioè, se uno scappa dall'orso non è che pensa a riprodursi o cose di questo genere. Però, a livello di sopravvivenza della specie, a livello di sopravvivenza come specie, come gruppo, in effetti il fatto di avere la funzione riproduttiva ancora attiva è indispensabile in momenti di carestie, in momenti di attacchi di qualche tipo, perché questo garantisce che ci sia una progenie a continuare la specie. Faccio l'esempio che mi ha spiegato un biologo, mio amico. Avete presente quando hanno fatto gli esperimenti atomici con le prime bombe che scoppiavano, per esempio, nell'atollo di bichini? L'atollo dei bichini è stato praticamente raso al suolo da esplosioni nucleari di grossa portata, di grossa potenza, e lì l'unica specie sopravvissuta erano i topi. E questo ha stupito parecchi ricercatori, perché in teoria anche i topi sarebbero dovuti essere distrutti a causa delle radiazioni nucleari che avevano assolutamente una forza sufficiente anche per ucciderli del tutto, estinguerli, diciamo così. Ma questo non è avvenuto perché riuscivano a riprodursi in tempi sufficientemente brevi e con una precedenza sufficientemente buona del metabolismo, in maniera tale da far sì che ci fossero dei figli che sopravvivevano a malapena a questo olocausto nucleare a cui sono stati sottoposti e poi in qualche maniera in due o tre generazioni, cosa che avviene abbastanza velocemente per i topi, sono riusciti a ricreare la razza. Insomma, è stato piuttosto sorprendente. Quindi, a livello di sopravvivenza della specie, anche la funzione di riproduzione viene favorita. Cos'è che invece viene sfavorito da questo principio, da questo triage che opera il corpo all'interno del metabolismo? Beh, la riparazione del DNA viene messa da parte. Nel momento in cui il corpo è sottoposto a una carenza di vitamine e minerali, la manutenzione del DNA, che è essenziale per prevenire tumori e amalattie di questo genere, ecco, viene messa da parte. Ecco perché ci vuole un costante apporto di vitamine del complesso B, dei folati, di antiossidanti, perché altrimenti questa funzione di riparazione del DNA viene soppressa, viene messa da parte, viene posticipata a giorni migliori che potrebbero anche non arrivare mai se la persona è sempre carente di micronutrienti. Anche la detossificazione e la protezione dei radicali liberi viene messa in secondo piano. Quindi, in caso di carenza, detossificazione e protezione dei radicali liberi viene lasciata stare perché manca la vitamina C, manca la vitamina E, il selenio, cose di questo genere che possono essere antiossidanti ma che nel breve termine non sono così indispensabili. Infine, ma non per ultimo, diciamo così, la funzione immunitaria viene soppressa. La funzione immunitaria, come dicevo, viene soppressa molto facilmente. Scappi dall'orso, di sicuro il corpo non si dedica con grandi energie a far funzionare il sistema immunitario, ovvio, però questo può far sì se una persona ha delle carenze notevoli e protratte nel tempo che il sistema immunitario non funzioni mai. Ricordiamoci che il sistema immunitario non ci difende solo dal raffreddore o dall'influenza, ci difende anche dal tumore o malattie di questo genere perché continua a fare pulizia di cellule di bassa qualità, cellule senescenti e ne parleremo in un altro video. Queste cellule che i ricercatori chiamano in tono un po' scherzoso le cellule zombie mandano nell'organismo un secretoma, cioè fanno delle secrezioni causano delle secrezioni che vanno a influenzare anche le cellule vicine. Quindi la vecchiaia, la senescenza di queste cellule zombie tra virgolette va a contagiare e a rovinare anche la qualità delle cellule vicine. Ecco perché questa cosa fa invecchiare molto velocemente. Non a caso, come dicevo prima, la medicina che più si occupa dell'integrazione o che perlomeno ha meno dubbi sull'integrazione è proprio la medicina anti-aging. Diciamo che la medicina anti-aging fino a un certo punto è la medicina delle persone sane se vogliamo o perlomeno quelle che hanno questa terribile malattia che si chiama invecchiamento, una terribile malattia che riguarda tutti quanti. Ecco, la teoria del triage ci viene incontro per farci capire qual è l'importanza dell'integrazione non una tantum non un tucur legata a una patologia legata a una situazione di salute ma rende necessario che questa disponibilità di minerali, di vitamine, di antiossidanti sia garantita a lungo termine sia garantita praticamente sempre. Anche perché insieme alle potenziali carenze una volta che abbiamo risolto le potenziali carenze ricordiamoci che il corpo è sottoposto a degli stress che hanno delle variabili. Potrebbe essere che in un certo momento il corpo viene sottoposto a uno stress molto importante uno stress termico uno stress ossidativo stress mentale ecco queste cose qua esistono nella vita questa variabilità esiste e deve essere supportata appoggiata da abbondanza di micronutrienti cosa che a quanto pare non è sufficientemente garantita dal cibo moderno che invece a causa delle coltivazioni che sono state rese necessarie con questa tecnologia un po' antiquata che abbiamo nell'agricoltura per soddisfare più persone sfamare più persone però non è stato mai risolto il problema dei micronutrienti una pianta quello che riesce a tirare su dal terreno quello è e lo distribuisce ai suoi figli che sono i frutti che sono i vegetali che coltiviamo qualora vogliamo coltivare più figli per pianta semplicemente ci troviamo con meno nutrienti e questo detto in due parole è la problematica principale che spiega il motivo di tutte queste carenze per i dettagli daremo qualche altra informazione e approfondiremo in altri video se avete domande mi raccomando iscrivetevi con il link vicino a questo video alla Meetup Academy perché lì abbiamo una squadra di biologi nutrizionisti e medici che ci aiutano a capire come usare la metabolomica come usare la scienza della nutrizione e l'integrazione per migliorare le performance delle vostre terapie le performance della arte medica che voi state applicando sui vostri pazienti è un'iscrizione gratuita aperta solo ai professionisti della salute molto semplice da fare quindi approfittate di questa possibilità ripeto nel link vicino a questo video se sei un professionista iscriviti alla Meetup Academy per avere maggiori informazioni pratiche sugli integratori per migliorare la tua formazione e risparmiare tempo è un dovere nei confronti dei tuoi pazienti e potrai ricevere risposta a tutte le domande che potrai avere e comprendere al meglio come funzionano gli integratori per entrare in Meetup Academy gratuitamente clicca sul link vicino a questo video